Il corso dei servizi commerciali Web Community offre la possibilità di formarsi grazie all'utilizzo dei software e dei social network per promuovere l'azienda sul web. Lo studio per cinque anni dell'inglese e del francese permettono di avere una preparazione professionale con un taglio di internazionalizzazione. Inoltre si svolgono svariate ore in laboratorio. Con i Web Community potrete gestire i profili social delle aziende e l'e-commerce, lavorare in agenzie pubblicitarie e nel web marketing e trovare occupazione in strutture commerciali e studi professionali. Ho scelto l'indirizzo servizi commerciali perché mi permette di entrare subito nel mondo del lavoro con le competenze che le aziende richiedono per la comunicazione web e social.